Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo una maglia che mi avete chiesto in tanti, e in tanti, e in tanti. Questa è la terza maglia della Juventus per la stagione in corso, in edizione FAN. Grazie a tutti. La maglia è stupenda. Questa versione FAN devo dire che mi ha stupito tantissimo. Fatta molto bene, sono curioso di vedere la versione player per vedere le differenze. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso se considerate che include anche le spese di spedizione. Se volete saperne di più o ordinare la maglia, trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari. Quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi la parte finale in cui vedrete le misure, se volete tutti i giorni vedere recensioni come questa, di maglie bellissime come questa della Juventus, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti!